Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ha chiuso con un'ordinanza un tratto di pista ciclopedonale che dalla galleria ferroviaria sotto il castello porta verso il ripare di Giobbe. Leggiamo, attenzione pericolo frana, cosa è successo? Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte dei carabinieri forestali che a seguito di un'azione per l'ustrazione di controllo della costa per il rischio idrogeologico hanno rilevato un movimento franoso proprio in questa zona, la zona Peticcio di Ortona che dà sulla pista ciclabile e quindi vedendosi solamente un rischio per i fruitori della pista essendo autorità sia per la pubblica sicurezza che per la protezione civile ho ritenuto opportuno interdire al momento questo tratto di pista ciclabile in attesa dei lavori delle ferrovie dello Stato. Ecco perché c'è da dire che è una frana particolare. Non si tratta di una frana geologica, è solamente una frana dovuta dal movimento di terra del riporto perché in questa zona ci sono dei lavori in corso per il potenziamento della linea ferroviaria ma le ferrovie si sono attivate subito. Ci hanno avvisato che hanno applicato la procedura di somma urgenza e quindi questo diciamo più o meno i tempi tecnici, parliamo intorno ai due mesi di lavori. Intanto il Comune di Ortona già pensa al prolungamento della pista ciclopedonale che costegge il mare. Proprio in questi giorni, credo forse anche in mattinata, approveremo uno studio di fattibilità per la prosecuzione di questa pista per superare l'ostacolo tra virgolette di ripari di Giobbe per dare l'incarico di progettazione della pista ciclabile. Noi abbiamo già uno stanziamento di 1.800.000 euro. Che non basta ma conclude il Sindaco, il nuovo Governo regionale già si mostra interessato alla prosecuzione e alla conclusione della Via Verde. Grazie a tutti.